Pensiero del giorno. Cari angeli, grazie per aiutarmi a vedere i molti doni che ho davanti. Per favore, aiutatemi a liberarmi dalle preoccupazioni e ad avere fiducia nel meraviglioso progetto divino. Non è necessario che io ne conosca tutti in retroscena. Devo semplicemente mantenere il cuore aperto e gioioso ed essere disponibile a ricevere tutto il bene che mi offrite ogni giorno. Stai sereno. La tua bellezza, il tuo potere e la tua luce sono più forti quando ridi e sei allegro. La spensieratezza è la condizione terrena più vicina al cielo. Spesso pensi a divertirti di più perché desideri provare la sensazione divina dalla gioia. Allo stato naturale il tuo cuore ne è ricolmo, perché questa è la condizione esistenziale che ti è stata donata da Dio. Solo quando diventi molto serio, la gioia viene oscurata. Noi angeli vediamo che ti chiudi quando pensi che solo sforzandoti e dandoti da fare le tue fatiche verranno ricompensate. Tuttavia, i veri benefici che cerchi arrivano più facilmente quando sei spensierato. Oggi lavoreremo con te per alleggerire il tuo cuore, la tua mente e il tuo atteggiamento. Elimineremo il peso della preoccupazione e lo sostituiremo con la gioia, elevando la tua energia. Il tuo potere di manifestazione si intensifica. Grazie. Grazie.